A New York, la telecamera per gli sportivi, quindi fanno sci, un surf, perché può andare nell'acqua, la lente è molto larga, quindi vedi, qui mi vedo, sono dentro il video, lo vede tanto. Vedi, così tutto allargiamo, 180, 170, i miei sono dentro, tutti dentro, sono tutti dentro, ma c'è solo il muro. C'è gambe, 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 Lui viene con degli attacchi speciali, tipo così, io la uso sul casco della moto, metto lui clic. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 a noi basta non chiede niente in Bruxelles parla ma non per essere dedicato quando parlo è per dirti togliti di mente ma gentilissimo non so se calenta non so se calenta se la pulizia il basso non so se calenta 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 ma ci sono i film cinesi io guardo sempre il libro originale il sottotitolo spesso c'è la scelta la lingua mandarin il sottotitolo non so se calenta il sottotitolo non so se calenta il sottotitolo è più duro è più duro è più duro è più duro e più dolce Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. 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 le omelette. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. si. si. a tutti. 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 .